Ciao, sono Varicella Morbillo. Questa è una lezione su come giocare a bocce. Primer, hai bisogno un parco e un set di bocce. Secondo, hai bisogno almeno due giocatori. Ogni giocatore sceglie un colore. Bene, il primo giocatore avrà il pallone, la pallina bianca, e gettarlo. Dove mai si atterrà e dove i giocatori dovranno cercare di gettare la palle più vicini al? Ciao! Oggi fa caldo! Sì! A turno! Si butta tutte le palle. Chi ha più palle più vicini al pallone vince la partita! Vinco io! No! Vinco io! Vinco io! Vinco io! Grazie, grazie! Benissimo! Per altri video, guardate il mio canale. Arrivederci! Arrivederci! Ciao! 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 Grazie a tutti.